Ok, questa è la domanda che si fanno tutti quelli che non possiedono un garage o un posto autodedicato. Io un box ce l'ho, con colonnina annessa, ma ho provato a vivere senza per una settimana. Anche perché Arisa vorrebbe cambiare la sua Polo diesel con una piccola elettrica e siamo indecisi tra Renault Zoe, Volkswagen e Up e Honda e. E non abbiamo un box doppio, quindi ci sta solo la mia o solo la sua. Io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video. C'è da dire che se non si ha un box, i problemi potrebbero essere molteplici, legati alla sicurezza, all'autonomia, alla salvaguardia della batteria e alla comodità, che credo sia il punto fondamentale. Non cercherò assolutamente di negarlo, se si ha un box dove parcheggiare e ricaricarà la notte è tutto di guadagnato. Per vivere senza bisogna organizzarsi. Ora vi spiego il perché. Durante il mio esperimento ho provato a dimedesimarmi in una persona normale, con un lavoro normale. Diciamo un lavoro che per arrivarci ci sarebbero dovuti volere 30 minuti di spostamento. Magari 15 o 20 km, una roba più o meno fa. Qualche anno fa io lavoravo in centro e ho deciso di usarlo come punto di riferimento. In quella zona, a circa un chilometro di distanza, ora c'è installato una colonnina di ricarica di A2A, che nel mio paese è una rete di ricarica abbastanza capillare, devo dire, e non costa neanche tanto. Ha una tariffa flat, 5 euro al mese e siete a posto. Potete ricaricare quanto volete. Quindi io potrei andare alla colonnina, sperare che sia libera, perché non si può prenotare, parcheggiare, mettere l'auto in ricarica, camminare fino a destinazione. È così ed è facile. Tutti i problemi sono risolti. L'auto si ricarica per 10 ore, tanto io rimango in zona e lavoro lì, e via. È risolto il problema. Non si può. L'auto non può rimanere collegata alle colonnine per 10 ore. Anzi, solo per 2 ore consecutive. Quindi dopo 2 ore che è attaccata, dovrei prendermi una pausa dal lavoro, andare a scollegare l'auto e parcheggiarla in un parcheggio vicino, sempre che lo trovo. Quindi, vabbè, opzione che potrebbe funzionare, ma dipende da tanti fattori. La colonnina è libera? È lontana da dove lavoro? Come ci vado? Se a piedi è un casino raggiungerla? Eccetera. Direi che al momento questa opzione, ossia ricaricare mentre siamo al lavoro, sia comoda, solo se si ha praticamente la colonnina nel parcheggio fuori da dove si lavora. O comunque molto vicino. Abbiamo solo scalfito la superficie del problema, ragazzi. Diciamo che non possiamo ricaricare durante l'ora di lavoro perché non ci sono colonnine vicine. Ok? Mettiamola così. Pausa pranzo. Se andate in un ristorante a mangiare, durante la pausa pranzo potrebbe avere una colonnina al ristorante, quindi si potrebbe sfruttare quella mezz'ora del carica. Se poi è a 11 kilowatt, potrete magari riuscire anche a ricaricare abbastanza per il viaggio di ritorno o addirittura per l'andata e per il ritorno. Idem potreste decidere di andare a mangiare vicino a una colonnina. In ogni caso dovreste cambiare un pochino le vostre abitudini. Ma cambiare è bello. E se anche questo non fosse possibile, potremmo ricorrere ad una ricarica mentre torniamo a casa. Quindi il pomeriggio o la sera, quando abbiamo finito di lavorare, ci fermiamo una mezz'oretta ad una colonnina e ricarichiamo. La colonnina potrebbe anche essere gratis. Ad esempio nella mia città, vicino ai centri commerciali, ci sono diverse colonnine gratis che ricaricano in AC ma anche in DC. Quindi alla fine potrei bermi un caffè e ricaricare nel mentre. E c'è un ragazzo che conosco, che ha una Model 3 Performance, che per un anno e passa ha caricato sempre in colonnine gratis e non aveva il box e ce l'ha fatta tranquillamente. Tranquillamente magari è una parola grande, però comunque lui in un anno deve aver speso circa 60 euro in totale di tutti gli abbonamenti che ha fatto per ricaricare la sua performance. E ha fatto 30.000 km. Quindi non pochi. L'importante ragazzi è ricaricare abbastanza per coprire il viaggio di oggi e quello del giorno successivo. Così facendo sia sempre l'auto pronta per andare al lavoro. Ultima opzione, una ricarica grossa diciamo, una o due serie a settimana. Anche questa potrebbe essere gratis se siete fortunati oppure a pagamento, dipende. Se avete una Tesla e avete un Supercharger vicino, ok, una volta a settimana andate a fare la ricarica, anche se però vi ricordo che caricare sempre in DC è deleterio per la batteria, quindi non saprei. Se volete approfondire il discorso, io la scorsa settimana ho pubblicato un video dove appunto parlavo del dregato delle batterie se si caricano sempre in DC. Quindi dagli un occhio, lo metto in alto a destra. Quindi una o due volte a settimana si può ricaricare. Magari quando andate a fare la spesa lasciate la macchina, magari andate, non so, al Lidl. Molti Lidl hanno fuori una colonnina di ricarica a 11 kW, voi andate a farvi la spesa un paio di ore e avete ricaricato quasi metà della batteria. Ma poi chiaramente dipende sempre dalla batteria della vostra auto. Se avete una batteria da 39 kW, forse due volte a settimana non sono abbastanza, ma magari sì. Tutto dipende da quanti chilometri fate, dal consumo energetico dell'auto e dalla sua autonomia. Nelle mie varie recensioni che ho fatto di auto elettriche, quelle con 39 kW erano ben ottimizzate. E quindi comunque si riusciva tranquillamente a fare 250 km, anche 300 km, col piede molto leggero. Ovviamente comunque per queste due ricariche a settimana fuori dall'orario di lavoro, diciamo, si perde del tempo. Quindi non è che sia proprio il massimo. A questo punto bisognerebbe veramente adattarsi alla vostra auto e non il contrario. Però è così. Ultima opzione, credo potrebbe essere quella di avere una colonnina vicino a casa. Quindi la sera, mentre si fa passeggiare il cane, andare a ricaricare per un paio di ore e via. Il problema potrebbe essere risolto. Anche qui però si cambiano le abitudini. Ma magari prendersi una pausa in più ogni tanto potrebbe anche essere una buona cosa. Non vedetela necessariamente come una cosa negativa. Certo rimane il fatto che la cosa più bella, più facile, più adatta al mondo delle auto elettriche sia quello di avere un box con un nesso a una wallbox per ricaricare. Se arriva a casa, qualsiasi ora, si collega il cavo e via. Tutti i pensieri di ricarica e di ansia se ne vanno automaticamente. Io da quando ho l'auto elettrica ho la wallbox in casa e non ho mai avuto problemi. E ricarico pure piano, ricarico a 3 kilowatt, quindi poco. Certo, se devo fare un viaggio e per sbaglio non ho l'autocarica, io ho il supercharger vicino a casa, la risolvo velocemente, faccio una puntatina supercharger e via. Tra l'altro vicino al supercharger c'è sempre un bar o un ristorante, un centro commerciale, appunto perché così nei tempi morti uno può andare lì e bere qualcosa. Oppure far spendere un po' di soldi alla moglie. Quello comunque che da sempre consiglio è prima di acquistare un'auto elettrica verificare dove sono le stazioni più vicine di ricarica. Se sono gratuite, se sono a pagamento e quanto costano. Per farlo vi basta scaricare un'app sul cellulare, si chiama Next Charge, non è assolutamente sponsorizzato da Next Charge questo video, ma sinceramente è l'app che ho io installato sul telefono e la uso, va abbastanza bene. Vi localizza, vi dice quali sono le più vicine, eccetera. Anche perché di schede di abbonamenti per ricaricare ce ne sono veramente tanti, è un po' un selvaggio West. Magari un giorno approfondirò, sempre che riesco a trovare un unico sistema che vada in roaming su tutte le colonnine, perché veramente di ragazzi di colonnine ce ne sono una marea. Quello che vi consiglio è guardare le colonnine che ci sono nella vostra zona e magari farvi l'abbonamento di quella colonnina lì. Comunque la cosa più comoda in assoluto sarebbe avere un bancomat sulla colonnina o una carta di credito. Così arrivi, tac, fatto. Senza bisogno di menade, vabbè, comunque. Se volete un approfondimento scrivetemelo nei commenti e se avete bisogno mi trovate sempre nel gruppo Telegram che vedete qui sotto. Siamo la più grande community di auto elettriche d'Italia, quindi unitevi. C'è da dire poi ai ragazzi che all'inizio magari tutte queste nozioni o difficoltà che si potrebbero avere passando all'elettrico diventano veramente trascurabili dopo averci fatto l'abitudine. Veramente, io sono sincero ragazzi, avere e guidare un'auto elettrica cambia un po' il vostro stile di vita, ma questo cambiamento viene assimilato dal vostro cervello velocissimamente. Io adesso non mi faccio più nessuna domanda, non mi faccio più, non guardo neanche la percentuale di carica della batteria, perché so dove voglio andare e che qualsiasi cosa mi succeda sono coperto. Certo, con una Tesla si è super coperti, appunto perché ci sono supercharger. Poi comunque, in una settimana veramente il vostro cervello assimila tutto. E a proposito di una settimana, se decidete di comprare una Tesla, magari usando il mio codice amico per avere in regalo entrambi i 1500 km di ricarica, io ve lo lascio qui in descrizione, non si sa mai, se decidete di acquistare una Tesla, avete sette giorni per rinunciare e Tesla vi rimborserà completamente. Quindi se entro una settimana avete veramente difficoltà o comunque non siete soddisfatti del mezzo, bam, lo restituite. Altri non fanno così. Quindi prima magari next charge, guardate un pochino. Se vi piacciono questi miei video e retroscena su Tesla, iscrivetevi al canale. Facendo così mi aiuterete a crescere su YouTube. Lasciate un like sotto questo video, dimostrando così a YouTube la vostra preferenza, che forse mostrerò il mio video anche ad altre persone che potrebbero essere interessate. Non siate pigri, lasciate un like. Dunque, allora, ricapitoliamo. Se non hai un box dove parcheggiare o ricaricare l'auto sono cazzi, ma puoi sempre ricaricare in giro. Sta solo a te trovare il giusto compromesso per non cambiare troppo la tua abitudine. Prova con next charge. Io sono fortunato, ho un box e lavoro a 5 minuti da casa a piedi e ci vado a piedi a lavorare. Effettivamente ora che ci penso un'auto da 500 cavalli forse è stato un po' un azzardo, ma non sarei qui a parlarvene se non fossi una spendazione di merda. Anche per oggi il video ragazzi è terminato, noi ci rivediamo ogni martedì e venerdì alle 12 in live la domenica con una estrazione di questi piccoli cosettini qui e se li volete acquistare lo trovate su shopmatteovalenza.com. Quasi dimenticavo poi c'ho anche Twitch che ci facciamo una parta ogni tanto. Ciao raga, vado a ricaricare. Ciao raga, vado a ricaricare.